ciao nicolas benvenuto grazie di aver accettato l'invito per provare il nostro kart simulatore di kart dici le tue impressioni fai il campionato regionale se non sbaglio dimmi tu allora il kart è molto realistico anche le piste sono identiche a quelle che usiamo nel regionale e in qualsiasi campionato io vi ispiro per farlo provare ok per quanto riguarda la sensazione di guida come feedback sul volante come l'hai sentito per quanto riguarda accelerazione freni quando fai le curve sono uguali anche l'assetto si può cambiare quindi è molto realistico ok grazie nicolas per essere venuto a provarlo e spero di averti ospite un altro giorno ciao